un povero uomo aveva tre figliuoli giovanni fiore e pirolo gli venne da star male e chiamò i figli attorno al letto come vedete figli sono vicino a morire non ho da lasciarvi che tre staglia di quattrini che ho messo da parte con le mie fatiche prendetene uno per uno e ingegnatevi l'aveva appena detto che gli venne un gran sospiro e morì i ragazzi si misero a piangere ma ormai il loro povero padre era andato si divisero le tre staglia di quattrini una per ciascuno ma Giovanni che era il più grande disse ragazzi senza far niente non si può stare qui ci mangiano la paglia sotto andremo a finire su una strada bisogna che qualcuno di noi cominci a darsi attorno salta sul mezzano fiore hai ragione andrò via io a vedere se trovo da far bene e l'indomani si alzò si lavò la faccia ai piedi si illustrò gli stivali presse in spalla il suo staio di quattrini abbracciò i fratelli e se ne andò gira gira finalmente verso sera passando davanti a una chiesa vide l'arciprete che stava fuori a godersi il fresco faccio riverenza al signor arciprete disse fiore cavandosi il cappello addio a quel giovane dove ve ne andate per il mondo vado a vedere se trovo fortuna e in quel sacchetto cosa avete uno staio di quattrini che mi ha lasciato il mio povero padre volete venire a star con me ben volentieri dovete sapere che anch'io ho uno staio di quattrini e se venite a star con me faremo un patto il primo di noi due che si arrabbia perde il suo staio di quattrini fiore accettò l'arciprete lo condusse a vedere il pezzo di terra che doveva lavorare l'indomani e gli disse quando sarete sul lavoro non c'è bisogno che perdiate tempo avanti e indietro per colazione e desinare vi manderò io da mangiare come volete signor arciprete rispose fiore e andarono insieme a cena fecero due ghiacchiere e poi la serva più vecchia lo accompagnò nella sua stanza alla mattina fiore salzò di buon'ora andò al lavoro e cominciò a vangare come gli aveva detto l'arciprete e così continuò fino all'ora di colazione aspetta aspetta e non veniva nessuno fiore cominciò a inquietarsi a imprecare e visto che il tempo passava riprese la vanga e si rimise a lavorare a pancia vuota aspettando l'ora del desinare viene l'ora del desinare e fiore agguzza gli occhi sulla strada per vedere chi arrivava se s'avvicinava qualcuno pensava subito che fosse la serva dell'arciprete e riprendeva coraggio ma poi vedeva che non era lei e imprecava come un turco quando fu verso sera finalmente arrivò la vecchia con un mucchio di scuse che aveva fatto il bucato e non era potuta venire e tante altre storie lui che scoppiava dalla voglia di dirgliene di tutti i colori si trattenne perché se no perdeva lo staio di quattrini cacciò una mano dalla sporta della vecchia e tirò fuori una pignatta e un fiasco fece per aprire la pignatta ma il coperchio era chiuso che pareva murato con la calce fiore andò all'aria pignatta e tutto gridando insolenze ma sapete diceva la serva con l'aria innocente l'abbiamo chiusa così perché non c'entrino le mosche fiore pigliò il fiasco ma era chiuso anche quello alla stessa maniera lanciò imprecazioni da far cascare i muri poi disse andate andate dal signor arciprete che poi verrò io a dirgli il resto mi farò vedere io se è questo il modo di trattare la serva tornò a casa l'arciprete aspettava sulla porta come è andata bene bene reverendo ha un diavolo per capello poco dopo arrivò fiore con un grugno così lungo che gli si poteva metterla a cavezza e non era ancora entrato e già aveva cominciato a dirne di tutti i colori all'arciprete non vi ricordate disse l'arciprete che abbiamo fatto il patto che il primo che s'arrabbia perde lo staio di quattrini che vada al diavolo anche quello dispose fiore fece fagotto e se ne andò lasciandoci lo staio e l'arciprete con le sue due serve non si teneva più dal ridere mezzo morto di fame di stanchezza e di dispetto fiore tornò a casa i fratelli stavano alla finestra e già a vederlo in faccia capirono che gli era andata male quando fiore dopo aver mangiato e bevuto raccontò tutto ai fratelli giovanni disse vuoi scommettere che se ci vado io riporto indietro il mio staio di quattrini più quello dell'arciprete e più ancora quello che ci hai perso insegnami dove sta e lascia fare a me così anche giovanni andò dall'arciprete ma anche lui con la fame e la sete e la storia di quella pignata e di quel fiasco si prese un'arrabbiatura tale che non solo il suo staio ma anche dieci staio di quattrini ci avrebbe lasciato se le avessi avute e tornò a casa affamato e disperato come un ladro pirolo che era il più piccino di tutti ma anche il più furbo disse sentite fratelli lasciatemi andare a me mi impegno a riportarvi i vostri quattrini con quelli dell'arciprete e tutto i fratelli non volevano per paura che anche l'ultimo staio di quattrini si perdesse ma lui tanto disse e tanto fece che lo lasciarono andare si mise in viaggio arrivò alla casa dell'arciprete ed entrò al suo servizio fecero il solito patto di chi si arrabbia prima e l'arciprete disse io di staio di quattrini ne ho tre e ce ne metto tre contro il vostro staio poi andare a una cena e pirolo vado a cacciarsi in tasca quanto più poté di pane di carne di prosciutto e di formaggio alla mattina prima che si alzasse il sole pirolo era al lavoro quando fu l'ora di colazione e naturalmente non si vedeva venire nessuno pirolo tirò fuori di tasca pane e formaggio e cominciò a mangiare poi andò a una casa di contadini si fece riconoscere per servitore dell'arciprete e domandò da bere i contadini gli fecero festa gli chiesero della salute dell'arciprete e discorrendo lo portarono in cantina e gli spillarono una scodella del migliore così ne ebbe abbastanza fino all'ora del desinare lo vi ringraziò disse che sarebbe tornato più tardi e tutto allegro se ne andò a lavorare un altro poco all'ora di desinare non si vide ancora nessuno ma pirolo aveva con sé pane e companatico poi tornò a bere del vino e si rimise a lavorare cantando verso sera ecco che ci vede arrivare da lontano una donnetta la serva vecchia del prete che portava al desinare e pirolo a cantare scusatemi quel giovane se ho tardato cominciò la vecchia oh vi pare fece lui a mangiare c'è sempre tempo la vecchia a sentir questa risposta restò lì e cominciò a tirar fuori dalla sporta la pignatta col coperchio murato e lui si mise a ridere oh bravi avete pensato a non farci andare le mosche e col manico della zappa sfondò il coperchio e si mangiò la minestra poi preso il fiasco col manico della zappa fece saltare il collo e beve il vino quando ebbe ben mangiato e ben bevuto disse alla vecchia andate pure che a momento ho belle finito il lavoro e vengo anch'io ringraziate il signor arciprete della premura l'arciprete aspettava la vecchia a braccia aperte ebbene cosa c'è di nuovo le chiese va male disse la serva quello è allegro come una pasqua sta tranquilla vedrai che gli passa disse l'arciprete tornò pirolo e si misero a cena a cena pirolo scherzava con le due serve e l'arciprete friggeva e domani che lavoro devo fare chiese pirolo sta a sentire disse l'arciprete io ho cento maiali dovresti andarmi lì a vendere al mercato la mattina dopo pirolo con i cento maiali andò al mercato al primo mercante che trovò li vendette tutti tranne una scrofa grossa come una mucca ma prima di venderli tagliò il codino a tutti e si tenne novantanove codini di maiale si mise i quattrini in tasca e si avviò verso casa ma a un certo punto si fermò in un campo fece tanti buchi con una zappetta e ci piantò i codini lasciando fuori solo il ricciolo che spuntava da terra poi scavò una gran buca e ci ficcò dentro la scrofa anche a lei lasciando fuori solo il ricciolo del codino poi cominciò a gridare corri corri don remondo che i maiali vanno a fondo mangio tutti a precipizio resta fuori solo il ricciolo l'arciprete s'affacciò alla finestra e pirolo gli fece segni disperati di venire l'arciprete accorse guardate se si può essere più disgraziati ero qui con le bestie e tutt'an tratto le ho viste tutte sprofondare sotto i miei occhi ecco vedete hanno ancora il codino fuori certo stanno calando all'inferno proviamo a tirare se riusciamo a salvarne qualcuno l'arciprete cominciò a tirare i codini ma gli restavano tutti in mano pirolo invece prese il codino della scrofa e tira e tira la fece saltar fuori tutta intera e viva che gridava come fosse indemoniata l'arciprete stava per saltar su dalla rabbia ma pensò ai quattrini e si trattenne fece il disinvolto ebbene cosa vuoi fare è andata così e sabbiò verso casa torcendoci le mani alla sera pirolo domandò come al solito e domani cosa devo fare avrei cento pecore da portare al mercato disse l'arciprete ma non vorrei che succedesse la seconda di quest'oggi diavolo disse pirono non saremo mica sempre così disgraziati e l'indomani andò al mercato e vendette le pecore a un mercante tutte tranne una che era zoppa si mise in tasca ai quattrini e sabbiò a casa quando fu in quel campo del giorno prima prese una scala lunga lunga che era lì in terra e la appoggiò a un pioppo salì portandosi su la pecora a zoppa e la legò in cima all'albero scese tolsi la scala e cominciò a gridare corri corri don carmelo che gli agnelli vanno in cielo c'è soltanto quello zoppo che è rimasto in cima al pioppo accorse l'arciprete e pirolo ero qua con le mie pecore quando tutta un tratto le vedo saltare tutte in aria come se fossero state chiamate in paradiso solo quella povera zoppa l'ha saltato anche lei ma non ce l'ha fatta è rimasta là in cima l'arciprete era rosso come un tacchino ma riuscì ancora a fare il disinvolto a dire cosa vuoi non c'è rimedio è andata così quando furono a cena pirolo domandò ancora cosa doveva fare e l'arciprete figliuolo non ho più niente da darti da fare domattina vado a dir messa a una parrocchia qui vicino puoi venire con me a servire messa l'indomani pirolo si levò di buon'ora lustrò le scarpe all'arciprete si mise una camicia bianca si lavò il viso e andò a svegliare il padrone uscirono insieme ma appena furono per via cominciò a piovere e l'arciprete disse torna a casa a prendermi gli zoccoli non voglio sporcarmi le scarpe che mi servono per dire messa io t'aspetto sotto quest'albero con l'ombrello pirolo corse a casa e disse alle serve presto dove siete ha detto il signor arciprete che vi devo baciare tutte e due baciare a noi ma siete matto figuriamoci se l'ha detto l'arciprete e lui tutte e due certo non ci credete ve lo faccio dire da lui e affacciandosi alla finestra gridò l'arciprete che aspettava fuori signor arciprete una o tutte e due ma tutte e due sicuro tutte e due gridò l'arciprete avete sentito fece pirolo e le baciò poi prese gli zoccoli e corse dall'arciprete che gli disse ma cosa volevi che me ne facessi di una ciabatta sola quando tornò a casa l'arciprete si accorse che le serve gli tenevano il muso cosa c'è cominciò a domandare cosa c'è a noi chiedete cosa c'è sono ordini da dare quelli se non l'avessimo sentito coi nostri occhi non ci avremmo mai creduto e gli dissero del bacio basta disse l'arciprete ne ha fatte troppe bisogna che lo licenzi al più presto ma fino a che non canta il cucolo dissero le serve non si possono licenziare i lavoranti e noi faremo finta che canti il cucolo chiamò pirolo e gli disse senti per ora lavoro da darti non ne ho più e così ti do buona licenza come disse pirolo lo sa bene che finchè non canta il cucolo non mi può mandare via è giusto disse l'arciprete aspettiamo che canti il cucolo allora la serva vecchia ammazzò e spennò un po di galline e cucì tutte le penne su un corpetto e su un paio di bracche dell'arciprete si vestì tutta di penne e la sera andò in cima al tetto a cantare cucù cucù pirolo era azione con l'arciprete no disse l'arciprete mi pare che canti il cucolo ma no disse pirolo siamo appena a marzo e fino a maggio il cucolo non canta eppure si sentiva proprio cantare cucù cucù pirolo corse a prendere lo schioppo che era appeso dietro al letto dell'arciprete aperse la finestra e mirò a quell'uccellaccio che cantava in cima al tetto non sparare non sparare gridò l'arciprete ma pirolo sparò la serva pennuta cadde giù dal tetto impallinata l'arciprete stavolta perse il lume degli occhi pirolo levati dintorno che non ti veda più perché siete arrabbiato signor arciprete sì sì che sono arrabbiato bene allora datemi le tre staia di quattrini e poi me ne vado così pirolo torna a casa con quattro staia di quattrini e in più tutti i quattrini guadagnati vendendo i maiali e le pecore restituì ai fratelli le loro staia e lui si mise su una bottega da stracci vendolo prese moglie e visse sempre contento grazie